Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Gashgai 261x164. Questi tappeti sono realizzati dalle tribunomadi degli altipiani della Persia sud-occidentale. Presentano una grande densità di nodi per essere tappeti prodotti dai nomadi, e i motivi sono tra i più affascinanti e diversificati tra quelli realizzati da popolazioni nomadi. Normalmente i colori usati sono rosso scuro e blu. Sono tappeti con un ottimo rapporto qualità-prezzo perché molto pregiati. Lavorazione, hanno dato a mano. Spessore circa. 12 mm. Pelo, lana. Ordito, lana. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.